La network europea di sport educazione è un'organizzazione internazionale non-profit nel campo di sport educazione in Europa, da 1989. Questo anno, in Italia, a settembre 21 e 22, l'Università di Roma per l'Italico ha perduto l'NSCI Forum 2023, sotto il tema Sport educazione per sviluppare un'organizzazione internazionale, la perspectiva dell'euro-med. Il forum offrirà un spazio di riflessione e discussione sui problemi sociali e educativi che facevano l'Europa e il basino mediterraneo. Iniziamo l'NSCI Forum 2023 in Roma.